Vediamo in questo video il sistema di assemblaggio per una cornice molto grande che non sarebbe spedibile facilmente da montata. Pertanto, solo per uno scopo funzionale, abbiamo deciso di consegnarla al cliente smontata. Allo stesso tempo però, per aiutare il cliente ad avere un'esperienza positiva durante il montaggio, abbiamo creato un sistema di assemblaggio innovativo e semplice, facile da utilizzare anche per i non addetti ai lavori. Una cornice di tale dimensione, infatti, se non resa particolarmente robusta attraverso una larghezza di sezione decisamente molto larga, potrebbe subire, una volta montata, l'effetto bandiera. Ovvero, una volta in piedi, provocando un effetto leggermente ondulatorio partendo da un angolo della cornice, essa potrebbe essere eccessivamente flessibile. Benché questa condizione non crei alcun problema a quadro e cornice quando sono appesi al muro, in realtà crea problemi durante la spedizione. La cornice, cioè, potrebbe rompersi durante il viaggio. Spedirla smontata, dando la possibilità al cliente di montarla in pochi minuti, con una tecnica ben spiegata attraverso un video di riferimento, risulta essere vantaggioso sia per i costi di spedizione che in termini di sicurezza e qualità della consegna. Come si vede, gli inserti di plastica neri da applicare ai quattro angoli sono caratterizzati da un sistema a chiusura attraverso una brugola. Una volta aggiuntati i quattro angoli, si procede ad irrobustire il loro incastro per mezzo di quattro tavolette di legno predisposte per essere avvitate nel punto di giunzione. Grazie a tutti. Il risultato finale è eccellente. La cornice è ora pronta per essere appesa al muro con il suo quadro.